ciao ragazzi che dire vedete questo bel pacchetto qui è bellissimo unboxing ma questo è molto particolare come un boxing perché perché forse non lo meritavo non lo so ragazzi questo è il mio primo sponsor di pesca già già ovviamente non sono soldi e materiale però è un inizio sono estremamente contento allora ragazzi che dire sono stati un paio di miei video che sono estremamente piaciuti a certi personaggi che poi in seguito linkerò sotto i video sono stati quelli del barchino quello del membro quello che pesca corna tante sono piaciuti veramente tanto poi devo dire la verità anche la barba è tim bolognese l'occasione perché il produttore di queste cose qua è uno anche che produce prova da sport da combattimento posso automaticamente conoscendo che sono dall'ambiente più di 30 anni ha voluto fare una prova io adesso ho uno sponsor sopriamo che non sia rotta ragazzi addirittura imballata d'aria figo imballata d'aria questa cosa qua non l'avevo mai vista estremamente leggera fa impressione ragazzi cos'è questa cosa qua questa cosa qua è una canna light ultra light per andare a trote o pescare con con artificiali praticamente inesistenti davvero un grammo a 7 grammi c'è roba c'è roba veramente che non è imballata bene fa i danni tanta roba spera di fare dei bei video così mi regalano dell'altra roba è la volta buona che contro il computer buono ragazzi in ballata da paura apriamo apriamo direi che ci siamo in ballata è in ballata bene ma che bella o ragazzi mamma mia se leggera guardate qualche finitura la paura proprio bellissima veramente bellissima e leggerissima manico in carbonio ultra leggero e bamba che bella anzi fa quasi abbastanza impressione devo dire la verità sembra quasi di una vera e non so se arriva a tre grandi sta roba qui bella rigida ma non vedo andare a pescare ragazzi ora vi saluto mi raccomando segnatevi campanellina e speriamo che arrivino altri sponsor per full timer pesca e via verso nuovi orizzonti ciao 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 ciao